Si corre domenica 3 novembre la 53esima New York City Marathon, sfida maschile soprattutto tra il vincitore 2023 Tamirat Tola e il primatista europeo Bashir Abdi, rispettivamente campione e vicecampione olimpici, a Parigi 2024. Donna da battere sarà la keniana Helen O'Beary, prima a New York 2023, a Boston 2023 e 2024 e medaglia di bronzo a Parigi 2024. Oltre 50.000 i partenti, impegnati a restituire a New York il record mondiale di finisher, passato da quest'anno a Berlino, che il 29 settembre scorso ha registrato 54.062 arrivati. Partenze. Donne top runner 14.35, 8.35 a New York, uomini top runner 15.05, 9.05 a New York. Dirette TV Rai, Rai Sport HD, fino alle 15.15 e a seguire su Rai 2. Eurosport, la diretta integrale su Eurosport 1. Dirette streaming, RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo, Now, DASN.